L'anno scolastico è al giro di boa e ci stiamo ormai avvicinando alle operazioni finali. Uno degli appuntamenti più importanti riguarda la somministrazione delle prove in valsi che quest'anno prevede alcune novità. Innanzitutto le prove non saranno tutte concentrate nella prima metà del mese di maggio, per esempio nelle classi quinte della secondaria di secondo grado le prove verranno somministrate fra il 4 e il 30 marzo, mentre per le classi seconde il calendario prevede il periodo che va dal 6 al 18 maggio. Per le terze della secondaria di primo grado le prove si svolgeranno fra il primo aprile e il giorno 18. La diluizione del calendario è dovuta in larga misura al fatto che le prove si svolgono online mediante un computer, ma sulla decisione del ministero e dell'invalsi potrebbe aver giocato anche il tentativo di depotenziare se non addirittura di impedire di fatto gli eventuali scioperi proclamati dai sindacati di base come è accaduto negli ultimi anni. La somministrazione per via cartacea resta ancora per le classi seconde e quinte della scuola primaria fra il 3 e il 7 maggio. Per il momento tutto procede senza le consuete proteste e polemiche, ma forse solo perché l'attenzione del mondo della scuola è tutta concentrata sulla questione della regionalizzazione che continua a alimentare dibattito e polemiche. Su questo argomento ovviamente noi ritorneremo perché fra pochi giorni le prove verranno somministrate già nelle scuole secondarie. Questo è un tema come sempre molto caldo, molto sentito dai docenti e anche dagli studenti, quindi torneremo a parlarne. Se volete inviarci i vostri commenti e le vostre esperienze o comunque volete intervenire potete farlo qui nel canale youtube oppure anche scrivendo alla nostra testata www.tecnicadellascuola.it www.tecnicadellascuola.it